Bello a tutti ragazzi bentornati sul canale del Signor Shady, siamo su Uncharted 4, continuiamo la nostra storia, siamo al capitolo 12 di 15 in mare, vediamo un po' cosa succederà, abbiamo trovato Libertalia, adesso andremo a esplorarle, a cercare il tesoro. Che te ne pare, eh? Beh, sembra fantastico. Prendi un attimo timone. Lo sai, con tutto questo correre e tentare di salvarci la pelle, non ci siamo mai presi un minuto per fermarci a riflettere su quanta strada abbiamo fatto. Senti fratellino, ti perdonerà tranquillo. Se le porti un tesoro come quello, chi non lo farebbe? Non lo so. Sai, forse ho... Ho tirato un po' troppo la corda. Almeno se ne è, se ne è accorto. Si vede che c'è altre cose a cui, a cui pensa. Però, vabbè. Ok, ci siamo. Comincio ufficialmente il capitolo 12. Vediamo se Rafe arriverà pure lui, ma insieme a Nadine. Spero di no. Quelli c'è che vengono il cazzo, se no noi... Ragazzi, io direi di attraccare davanti. Un po'. Allora, forse qua... Vedo qualcosa qui. Eh, vedi? Ok. Io scendo da qui. Che bello, regà, mamma mia. Non so, però... Sono curioso di sapere quale... Quale motore grafico hanno usato per... Per Uncharted. Devo dire che si sa... Cioè, si comporta veramente bene. Non so quale motore grafico usa Naughty Dog. Dopo me lo vado a cercare su internet. Sembra una specie di porta. Che protegge una cavità. Una cavità enorme. Che sia una sala di tesori? Impossibile. Everia aveva un ego smisurato. Scommetto che ha sepolto il tesoro in un nascondiglio molto più complesso. E protetto alla perfezione. Mi hai convinto. Ma potrebbe essere... No, potrebbe essere. È sicuramente così. Ma se io scendo un attimo qua, trovo qualche tesorello? Ah no, pensavo fosse tipo una grotta. Vedo tutto buio. Invece si scende, quindi... Non ci frega niente. Non ci frega niente. No, Sam. Sali, sali, sali. Non ci frega un cazzo. Vamos, vamos. Vediamo un po' qua cosa abbiamo. Ok, qua si può scendere velocemente. Qua pure. Però qui c'è un'altra zona. Se hanno messo quella trave servirà a qualcosa, penso. Non l'abbiamo usata, però. Vabbè. Magari hanno dei resti di scale. Qua devo uscire fuori. Ok. Ah, io ho dato una capocciata. No, qua mi dovevo... Mi dovevo semplicemente arrampicare. Attento. Ok, da qua. Una specie di simbolo. Ma cosa indica? Grande, Sam. L'intuito di Sam. C'è una cosa che ho imparato da te. Eh, premi ovunque. Guarda bene. Lo stesso simbolo. Tra freccia. Scopriamo che cosa indica. Ok. Sì, però lì io ci devo andare perché vedo un sacco di roba. Che devo fare, scusa? Eh, ok, ok, ok. Lo so, lo so. Ecco. Tu, Sam. Ah, ce l'hai, ce l'hai per te. Va bene. Allora, dove si usciva? Da qua dietro. Ok. Poi c'erano le strade per fare prima che una è qua. Oppala. Aspettate un attimo, è qua messa quella... È così, no? Eh. Va bene, va bene. Scusate, raga, mi era suonata la sveglia. Hihi. Non lo so perché mi è suonata la sveglia. Cioè, so... So le otto. Di sera. Perché c'è la sveglia? Boh, non lo so. Che bisogna fare? Ok. Mi sono un attimo perso nel... Nel rispondere qua. No, no, aspetta un attimo. Perché io... Da quella torre vedevo questo simbolo. Che mi dice di andare di là? Non è che devo riprendere... Aspettate, ma la barca non era qua, raga. Eh no. Era dall'altra parte. Perché se non ci sta più... Non ci sta più. Aspettate un attimo. Il simbolo diceva di andare da quella parte, però, eh. No, vediamo quest'altro che cosa ci dice. Dice di qua. Andiamo. Ma posso andare a piedi o... Vabbè, no. Ma perché andare così lenti? Mi faccio un attimo un bagnetto e prendo la barca. Ehi, guarda. C'è un'altra freccia. Eh, ma dice di andare... Aia. Aia. Dice di andare di là. E vabbè, andiamo di là. Mo' troviamo Atlantide, raga. Altro che Libertalia. La città... Sottomarina. Oh. Vediamo qua che cosa... C'è un'altra freccia qui, eh. Sè. Dice di andare di là. Uh. E qui? Raga, non so perché sto andando qui, eh. Cioè, ve lo dico con estrema sincerità, proprio. Cioè, le frecce dicevano qua. Credo. Guarda, è una nave. Quel che ne resta. Io scendo, chico. Ma dove cazzo fai, Sam? Ah, devo salire per forza. Dimmi. Segui le frecce di pietra. Eh, ma io stavo a seguire, no? Qua c'è stata una nave. Ero curioso. Insomma, ero... Abbastanza curioso, dai. Niente, raga. Non ci vogliono far vedere la nave. Quindi io direi di andare... Nel posto dove dobbiamo andare. Vado verso il segnalino che ci ha messo. Ma dove? Ah, qua sotto. Ma guardate, oh. Dove dice di andare, eh? Eh, ma dice di andare da là, raga. Eh, io ci sono nato. Ah, pure qui, ok. C'è un altro qui. Che dice di andare a sinistra. No, raga. Ve lo dico io. Eh, io ho ragione andare lì. Non so perché mi ha voluto far fare questa... Eh, no. Aspettate un attimo. Di ritornare indietro. Ma come cazzo è possibile? Non è che questo masso... Riserva sorprese? No, no, no. Impossible. Sì, ma qua stiamo andando proprio nel voto. Non può essere. Suggerimento. Segui le frecce di pietra. Mamma mia, raga. Non ci sto a capi in cazzo. Pure questo, detto molto sincero, papale, papale. Ma dove devo andare? Qua dove mi dice di andare? Qua mi dice di andare a dritto. Poi ne trovo altre che mi dice di andare a sinistra. Ritorna indietro. Cazzo, non so. Vedete questa? Ah, questa mi dice di andare qua, però. E qua devo scendere? E io scendo, eh. Se Semma scende significa che abbiamo azzeccato la... Ma come cazzo mi arampico? Eh, Semino. Hai qualche idea? Che cazzo guardi? Come faccio a salire, raga? Ah, ok. Ora lo so. Grazie, Semma, che ti sei spostato e mi hai fatto notare questa... Forse con la nave potrei. Vediamo un po'. Vedete, io faccio così, no? Ah, hai visto? Che genio il vostro signor Shady. Genio del male. Guardate, ci stava un segno. Non me lo dà più. Oh, ma che fa Natana? Se rincogionisce? Eh. No, ma dove devo... Cioè, a me sembra di sta a fa... Lo stesso giro. Scusate, eh. Mamma mia. La non chiarezza di questo gioco in certi momenti è... Sbalorditiva. Va bene, va bene. Invece era chiarissimo, perché sono io che non l'ho notato prima. Sono io che sono un bello coioncello. Devo andare qui. Va bene. Io ci sono. Guardate che bello, raga. Allora, questo nascondiglio si può davvero definire complesso. Probabile. Là ci andrei, ma... Prima voglio vedere qua... Cosa ci riserva il signore Everi. No. Non mi fai da... Da scaletta? Cioè. Ah, ma tu sei salito da qua. Va bene, va bene. Vediamo. Ah, come al solito ci deve stare sempre l'enghippo. Oh, ma cosa saranno mai questi massi messi così? Vamos. Guarda... Scusi, è una torcia? La forza brutta di Nathan. Ok. Ok, dobbiamo arrampicarci. Presumo qui. Vamos, vamos, vamos. Qui dove si va, non lo so. Forse di qua, non credo. E forse sì, invece. Aspettate. Perché qua non si sale. Allora scendo. Scendo, scendo, scendo. Oppela. Vedi dove stiamo? Eh, ma... Mi sa che abbiamo fatto una cazzata. O forse no. Vieni qui, Sam, che qui c'è un'altra stradina. Ah, è quella di prima. Ok, raga, non si doveva scendere. L'abbiamo capito. Perfetto. Si va qui. Ah, e poi si va qui. Giustamente. Non l'avevo notato. Ok, qui c'è un ponticello che dovremmo... Attraversare. Ok. Adesso gli faccio da scaletto a... Al signor Sam. Vedi se trovi qualcosa lassù. E poi lui mi dovrebbe trovare una cassa. Allora? Una via c'è. Ma non vedo altri modi per salire. Aspetta. No, niente, non me la trovo, mi sa, la cassa. Guarda se cade, eh. Sam! Stai bene? Ok, grazie, Sam. Ok. Devo trovare un modo per farti salire quassù. Aspetta. Grazie. Mi dovrebbe trovare una... Aspetta, ma... Da qua? Sam, sei ancora lì? Ascidenti. Sì, Sam... Ho capito, va. Ho incasinato il mio matrimonio. Deluso il mio migliore amico. Ho due folli e il loro esercito. Mi calcagni. Tassi tua. Te fa le cazzi tua. E non va bene. Ci sono io, però, Nathan. Sì. Hai fatto un po' di stronzate. No. Cori. Raga, secondo me se aspettavamo per davvero, ce la facevamo da soli. Cioè, con lui. Senza che andavamo così. Che figa. Sì, questa la lascio qua per sicurezza. Allora. Se... Non l'hai trovato un modo. Che volete se c'era qualche... Tesoro, ma... Zero, zero. Ok. Altro parkour. Qui che c'è? Perché? Perché mi sono legato qui? Ah, ok. Ho capito. Aia. Ho sbattuto. Oppa. Sì, ma vieni pure te. Com'è un piccolo cieco? Torno, torno. Ma riesco ad andare lì, secondo voi? No, direi proprio di no. Aspettate, perché forse potrei andare qui invece. E vabbè, ma... Scegli un po' giù. No. Ok. Vai. A posto. Voi così. Ecco c'è. Di qua dove andiamo? Giriamo qui. Troviamo i massi nostri. Vieni. Grande sei meno. E qua? No, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Va bene. Io proseguo avanti. Sali su, sali su. Vai con ste braccia. Eccoci. Che la pista è molto figa. Molto, molto figa. E io presumo di andare lì. Ok. Vai. Vai, 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 vai. Ci sono alcuni massi che mi fanno tremare il joystick. Secondo me significa che quelli cadono, se non mi sbrivo. Penso proprio di sì. Dici? Sì, ma d'entrata non ne trovavo manco una. Qua dove si va? Ah, qua magari c'è un tesoro. Secondo me sì. Sono fiducioso, eh. E lo sapevo. Hai visto? Continuiamo. Andiamo di qua. Aspettate un attimo. Era qui? Beh, è uguale. Andiamo. Ok, pure qui dobbiamo fare qualche saltino. Anche se sinceramente non so come... Come. Però Sam non ci ha seguito, quindi probabilmente non dobbiamo andare lì. Devo ritornare dove siamo. Se... Se Sam viene qua. No, 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 no. Ah, aspettate. Ok, dobbiamo salire sopra. Qua scendo. A posto. Ok. No, bello, bello, bello. Vado l'ora di fallo, raga. Ve giuro. Vai. No, si è formato prima. Volevo fare il saltino alla fine. La seconda più grande cisterna che abbia mai visto. E... Te lo dico dopo. Forza, scendiamo. Quale è la più grande? C'è qualche riferimento a qualcos'altro. A qualche alciato. Oh, no, mi... Ok. Io scendo un po' così... La cazzo di cane, insomma. Guarda come se la ride. Dove sta Sam? Sta dietro? No. Che qua non c'è un cazzo. Eccolo, eccolo. Presumo... Che ci sia qualcosa qui. Una luce che entra. Questo è il... Simbolo di Everi. Pensavo ci fosse almeno un tesoro qui, ma... Nulla. Sta porta... Non si apre. Via da qua, via da qua. Sì, ma... Bisognerà fare qualcosa, ragazzi. Secondo me c'è un trabocchino tra poco, eh. Allora, là ci sono andato. Che cazzo devo fare? Devo salire da qualche parte. Allora... Ci riusciremo a scoprire cosa dobbiamo fare, ragazzi? Sam, aiutami te. Non guardare in alto. Sì, ma perché mi dice il veicolo, lì? Ok. Allora... No, qua non ci sono stato, ad esempio. Ok, forse abbiamo... Forse ho capito dove dobbiamo andare. Cioè, magari era questa la stanza che dovevamo vedere. Sam, guarda questo diorama. Sembra la strada di una città. Avranno davvero costruito questa roba. Con questa gente non si può mai sapere. E' davvero vent'atto. Questo non era il... Questa... Cioè, non è la rappresentazione di quello lì... Del quadro che non sapevamo il nome? Non era quello? Oppure era quello lì strano? Ah, ma... Come si chiamava? Aspettate un attimo, eh. Giusto per... Ah, no. Qua non le faceva vedere, mannaggia. Però c'era il nome, forse. Albasca? Albasra? Albasca? Come si chiamava? Forse era lui. Non ne sono sicuro, eh. Vai. Dove è andato Sam? E mi sparisce sempre. Qua non mi fa sapere. Allora, qua si... Ok. Sì, ma il problema è che non so dove è Sam. Ah, eccolo qua. A posto. Ci sono anche delle scorte. Attrezzi, sementi. Eh, però viste. Forse saranno scadute ormai. Eh, me state sì. Leggermente a male sono andate. Cioè, ma queste due porte... Queste due porte sono sempre state aperte, regà, ma... Ok. Ci dovevo salire sopra. Dai, 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 dai. Proviamo, proviamo. Ma tanto non si aprirà e dobbiamo... Ah, no. Invece ce la facciamo. Ehi, pensa a tutti quei tesori. Sì, per ora penso alla mia schiena. Merda. Ridaglie. Un'altra porta che suona sto coso. Perfetto proprio. Un'altra prova da superare. Così fare? Ok, eccoci qui. Scusate, ho dovuto mettere un attimo in pausa, ma adesso... Siamo tornati. Abbiamo scoperto un'altra bellissima sala. Eh sì. Presumo sia un altro trabocchino. Allora, lì c'è una V. Qui c'è vuoto. Eh, regà, qua è un casino, ve lo dico. Cosa sto ruotando? Regà, non capisco. I simboli sulle sfere non sono quelli illuminati. Ah, fanno ruotare i simboli. Potrebbe sembrare... Ah. Ok. Quindi, io presumo... Ok. Cambia solo da questa parte, ok. Eh, aspettate, raga, qua è un cazzo di casino. Cioè, ma in base a cosa io, più che altro, dovrei... Allora, ma io... C'ho qualcosa scritto qua. No, questo non mi interessa. Eh, no. Eh, sì, lo finisco al lavoro, ma... Amico mio... Mica capisco come cazzo funziona. Eh, se no te lo direi. Allora. Io vedo che là si cambia. E qua? Aspettate, ho capito forse. Aspettate, eh. Ok. Uno ci siamo, eh. Ok, quello ci siamo. Senza ombra di dubbio. Ma non capisco se devo... Io provo a girare pure le altre, poi... Vediamo un po' quello che succede. Ah, ok, deve stare a metà questo, allora. Così. Credo. Andiamo, proviamo. Scusate per casino, eh. Scusate un attimo. Ok, ci siamo. Al-Basra. Al-Basra. Eh, era lui, raga, vedete? È uguale. Era un mogul, uno dei soldati sulla gas. Perché si è alleato con il... Quindi... Adesso cosa giro? Ah, questo è qua. Ma mia rega, se si capisce nulla, davvero, eh. No, come faccio a farli inquadrare... Ah, così. No. Ok, non era così. Direi proprio di no. Nemmeno così. Direi proprio di no. Uno è... Uno è giusto. Lo trovo, è il modo di non far spostare l'altro, ma... Eh no, si spostano, cazzo. Merda. Un minuto. Allora, questo dovrebbe essere così. Se non sbaglio. Ok. Vediamo se... Dimmi che non me lo cambia. No, cos'era che dovevo cambiare? Aspettate, raga, un attimo. Allora, quello è giusto. Ok, questo devo cambiare. Là, no. One moment. Ok, a posto. Ho capito. Però non riesco... No, non è così. Ok, ecco fatto. Ora non ti resta che... Ok. Ti ringrazio molto per l'aiuto, signor Sam. Andato. Va bene. E ci risiamo. Chi abbiamo? Vediamo... Joseph Ferrell, William Mace, Tariq, Pinmalik e Christopher Condot. 8 su 12. Ok, ci risiamo. La croce così. Sì. No. Ma come faccio? Scusate. Sì. No, aspettate un attimo, eh. Ok. Devo calcolare la distanza quando sono all'11. Proviamo così. No. Direi di no. Troppo. Ok, aspettate. Proprio così. No. Forse uno ne manca. Ok. Oh. Non è giusto? Ah, ce ne sta un altro, regà. Merda. Ma quello mi si sposta. Così non va bene. Quindi. Lo sposto ancora. Eh, regà, ma sti trabocchini sono veramente... Tosti, tosti, tosti. Ma... Dite che così non... Non ricapita diretto lì? Eh, no, direi proprio da no. Proviamo così. Proviamo così, proviamo così. E dai, eh. Beh, è l'ultimo. Sì, è vero, non c'è Avery. Ah, ok, non c'è... Non dobbiamo farlo. Ma posso vedere un attimo le statuole che dicono... Che bello, però, come sono fatte bene. Ok. Io vado. Proseguo. Vediamo. Ok, e adesso? Porca troia. Ecco la statua di Avery che mancava. Sì. Sì, ragazzi, però io temo che... Da un momento all'altro arriveranno... Rafe e Nadine. Quella è la cosa che... Mi fa un attimo cagare sotto. Ma io devo buttarmi? No. Non è vero. C'è anche il ciclo giorno-notte perché... Ah, no, è tutto nuvoloso. Sento dei tuoni che si stanno avvicinando, quindi... Tra poco andrà a piovere, ma al 100%. Senta, io vado di qua, eh. Non so se devo andarci, ma... Vedo pure una bella corda. Qui non c'è un cazzo. A posto. Scusate, ma qua non vedo un cazzo. Ok. Ah, devo prendere la barca. Ok. Mo' dannamo? Ma è salito il signor... Sam? Ah, sì. Ok. L'isola con la mostruosa statua di Aderi è sulla destra. Sono così emozionato che... Mi tremano le mani, guarda. Conosco la sensazione. È l'emozione oppure... Mi sa di un'altra sigaretta. Eccolo lì. Quello aveva un'altra opinione. Sì. È enorme. Andiamo. Ha un cannocchiato. Ma lo sta ascoltando un bel niente. Forse vuole che lo usiamo noi. L'isola del tesoro ci fai un baffo. Ci fa un baffo, regà, l'isola del tesoro. Andiamo a vedere. Si, in effetti non punta... Il suo cannocchiale punta proprio all'infinito. Non... Non punta a nulla di che. Però... Ci si può salire. No. Sta' attento. No, voglio andare io a vedere, non lui. Grande. Grande, semino. Proprio la cosa che volevo fare io. Eccola. Eccola. Allora? Una grossa isola a forma di teschio? L'isola è grossa. Ma niente teschio. Deve essere lei. Libertania. Ottimistico tutto considerato. Vedi qualcun altro oltre te e me? Non c'è niente di male a mostrare un briciolo di soddisfazione. Sarò soddisfatto quando Alcazar non ci starà più addosso. Andiamo. Ok. Che c'ha Sam? Scusa. Ho detto ok. No, 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 no. I tuoi ok non vogliono mai dire, ok? Di solito vogliono dire il contrario. Perché Sam se non è uscito così? Sta cosa non mi convince, eh. Merda. Quello è il nostro Rafe? Certo, e chi altri? Oh, merda. Ok, abbiamo il fatto della tempesta dalla nostra parte. Almeno quello... Ah! E da qui si riparte, regà. Questo era l'inizio. Ho capito. Ok. Se vi ricordate l'inizio proprio del... Del titolo, del gioco era così. Quindi da qui. Ok. Apposta, apposta. Vediamo un po' cosa è successo adesso. Ok. Ok. Che stiamo a pezzi, proprio. E daie che suona sto coso. Annaggia mea, oh. 13, naufragio, regà. Vabbè, tanto proprio sulla fine doveva scattare. 15, possiamo lasciare qui. Capitolo 13, ce lo vedremo nel prossimo episodio. Episodio. Devo andarmi alla spiaggia, sì, va bene. Nathan. Quindi ci vediamo alla prossima. Lasciatemi un like, iscrivetevi e fatevole a voi pare. Vi voglio bene, regà. Bella. Ciao, ciao.